Eccoci nuovamente in studio per la terza ed ultima parte di AC News, come abbiamo promesso torniamo a parlare di settore giovanile con un focus dedicato alle imprese dei cavallini rampanti. Il weekend che ci siamo lasciati alle spalle ha visto iniziare tutti i campionati del vivaio Amaranto, vittorie per gli under 17, 15 e 12, sospesa la prima gara di campionato per gli under 16 a Pesaro a causa delle condizioni meteorologiche avverse e poi perdono gli under 14 e 13. Entrando più nel dettaglio, la under 17 di Dante Gioacchini torna subito alla vittoria dopo lo stop subito contro la Carrarese, contro l'Arzachena dopo un primo tempo privo di gol, gli Amaranto hanno sbloccato il risultato con De Pellegrin e poi messo i tre punti in cassaforte con la doppietta personale firmata da Anselmi. La squadra è adesso al secondo posto solitario con nove punti ad una sola lunghezza dalla capolista Pontedera. Gli Amaranto under 15 di Mr. Bernardini conquistano invece la seconda vittoria stagionale contro l'Arzachena in rete per l'Arezzo di Tora, Tresa e Treppiedi che hanno chiuso appunto il risultato sul 3 a 0. La formazione 2015 di Mr. Belei è purtroppo incappata nella seconda sconfitta in altre tante partite, la Lucchese passa infatti per 5 a 1 e all'Arezzo resta soltanto la rete della bandiera firmata da Sobì sul calcio di rigore. Esordio con sconfitta anche per i ragazzi di Mr. Gorgoni che hanno affrontato la trasferta contro la Fiorentina dimostrando comunque grandi valori, risultato finale FIGICI 3 a 1, l'Arezzo ha però vinto l'abilità tecnica per 11 a 9. Chiudiamo poi la nostra carrellata con i piccoli Amaranto, gli under 12 di Mr. Vincenzo Bove che conquistano la seconda vittoria consecutiva contro i pari d'età dell'Olmo Ponte, vincendo tutti e tre i mini tempo grazie alle reti di Venanzi, Rocchi, Tata, Versari, Borgheresi e il poker firmato da Kevin. Con questo risultato quindi l'Arezzo sale al secondo posto in solitaria con 7 punti in classifica. La Lega Pro ha intanto ufficializzato il recupero della prima giornata d'andata del campionato Berretti originariamente in calendario lo scorso 29 settembre. La gara vedrà i ragazzi di Mr. Longo impegnati sul campo del Torino e andrà in scena il prossimo mercoledì 31 ottobre alle ore 14.30. Settore giovanile, tessuto imprenditoriale aretino e successi della prima squadra Amaranto sono gli argomenti al centro dell'intervista. Il presidente Giorgio Lacava ha incontrato ieri durante la conferenza stampa dell'Arezzo con UbiBanca. Ascoltiamola insieme. Presidente, questo è un altro giorno importante perché arriva anche un supporto per il settore giovanile, quindi un altro marchio del territorio che si lega anche al vostro vivaio. Assolutamente sì, Ubi è un'eccellenza nel sistema bancario e speriamo che anche il nostro settore giovanile diventa un'eccellenza. Il settore giovanile che tra l'altro sta andando molto bene, che sta facendo degli enormi passi in avanti a livello di crescita e quindi si spera che possa crescere di pari passo anche con quello che è il tessuto del aziendario che è il circondarezzo. Sicuramente sì, ma io direi che dobbiamo essere veramente soddisfatti. Ricordiamo sempre che noi siamo nati da pochissimo e poi come dicevo prima a un tuo collega, tanto nel calcio tu puoi essere il miglior dirigente del mondo, la migliore società, ma se poi non c'è i risultati non sei nulla. Noi i risultati fortunatamente partendo dalla prima squadra li stiamo ottenendo e speriamo che continui tutto così. Il campionato della prima squadra infatti sta andando oltre forse le più rosse previsioni, come dicono quelli che parlano bene. Adesso ci attende una trasferta molto importante per una settimana di lavoro comunque disteso. Normale e quindi speriamo che prepariamo il tutto bene per Olbia. Ieri hanno vinto su un campo difficile come Carrara, quindi è una squadra ostica, ma tutte le squadre in quel girone a parere mio sono ostiche. Noi abbiamo visto anche la stessa Albissola di domenica, è stata una battaglia a vincere quella partita. Dove può arrivare l'Ariezzo non soltanto la prima squadra ma la società? La società deve arrivare dove ha programmato, cioè il solito programma triennale che diciamo è crescere piano piano. Poi nel calcio i risultati non puoi sapere dove una squadra può arrivare e quindi incrociamo le dita e speriamo che continui sempre così positivo per tutti. Sono ricominciati intanto ieri gli allenamenti di preparazione in vista di Olbia a Rezzo. Oggi per l'Arezzo è prevista una doppia seduta che vedrà gli uomini di Dalcanto impegnati anche questo pomeriggio alle 15.30 al campo sportivo di Palazzo del Pero. Per Olbia l'Arezzo si imbarcherà poi sabato pomeriggio dall'aeroporto di Fiumicino. Sarà l'allenatore dell'Arezzo Alessandro Dalcanto, l'ospite d'onore della cena di autofinanziamento che Orgoglio Amaranto ha organizzato per dopodomani, venerdì 26 ottobre, a Villa Severi, grazie al patrocinio della provincia per il progetto We Are. La cena avrà inizio alle ore 20.30, prevede un contributo di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per gli under-14. Nel prezzo sono ovviamente comprese tutte le portate dall'antipasto al dolce e anche le bevute. È obbligatoria la prenotazione entro venerdì alle ore 13 presso tre dei punti Amaranto su cui si poggia il comitato, quindi l'orologeria Pernici di via Cavour, la tabaccheria Giotto presso in piazza Giotto e poi la panetteria Gastronomia Fonterosa via Anconetana. Orgoglio Amaranto, oltre a ringraziare la società sportiva Arezzo e dal canto per la disponibilità, invita tutti gli sportivi a partecipare. Si tratta infatti di un'occasione importante per raccogliere fondi da utilizzare per l'allestimento dei numerosi eventi in calendario nelle prossime settimane. Termina qui l'edizione di oggi di AC News. Io vi ricordo l'appuntamento questa sera con la trasmissione Amaranto World condotta dal direttore di Arezzo Channel Gianni Brunacci. Appuntamento alle 19.50. Io invece vi saluto per oggi, ci ritroveremo domani con AC News sempre alle 13.20. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.